Perché lo sport noi lo vediamo anche come terapia. I nostri bambini hanno bisogno di sport. In un'associazione di volontariato che lavora sui bambini può davvero portare un'aiuto concreto a questi bambini. Un dovere nostro di aiutare i bambini. Grazie. Il calendario in mezzo. Il calendario in mezzo. Adesso facciamo il calendario in dirà. È un'iniziativa molto bella e come ho detto prima è un dovere da parte nostra, una cosa che facciamo molto volentieri perché sappiamo che il calcio ha una rilevanza, un'impronta molto forte, soprattutto magari in queste città come Verona con tanti tifosi. Quindi oltre ad essere proprio un'iniziativa bella può portare proprio un apporto concreto a questi bambini che se lo merita. L'appello appunto di comprare il calendario che sia i tifosi del Verona che quelli che non sono tifosi per poter dare una mano e un aiuto a questi ragazzi, a questi bambini che sono stati sfortunati. Speriamo che adesso cominciano ad avere un po' di fortuna anche nella vita loro per dargli un aiuto concreto e per potergli dare la possibilità di sorridere e vivere serenamente. Grazie. Grazie.